ultime riprese dall'acquario internazionale danese adesso che se ne sono andati tutti abbiamo approfittato per fare anche questo piccolo video in questo posto magnifico come potete vedere c'è un po di tutto e chiudiamo qua davanti alla bbc arts dove fanno tutti gli speciali possibili vi saluto in diretta è un mondo per pochi lo diciamo sempre noi